Si chiama il conto negli appalti e nasce per favorire una filiera complessa che raggruppa non solo il comparto delle costruzioni, ma anche scavatori, installatori di pannelli solari e nuovi materiali, isolanti, serramentisti, servizi elettroniche e domotica. Il progetto che mira ad aiutare le micro imprese a partecipare alle gare d'appalto e di CNA Artigiani Imprenditori d'Italia Abruzzo, che lo ha presentato a imprese e istituzioni. Il direttore regionale CNA Silvio Calice spiega lo scopo di questo progetto. È un progetto molto ambizioso che ha l'obiettivo di far sì che le micro e piccole imprese, che rappresentano il 94% del tessuto imprenditoriale, che oggi sono fuori dagli appalti pubblici, perché tenga conto che solo il 17% partecipa agli appalti e solo il 5% sono vincitori di questi appalti. È uno studio che abbiamo fatto noi attraverso un osservatorio nazionale. Da qui il bisogno che abbiamo rilevato è di far sì che questa percentuale potesse in qualche modo aumentare. Abbiamo messo su un progetto scritto in sei mesi, realizzato nella sua progettazione, nella sua idea quasi in un anno, e oggi facciamo il lancio. Cosa prevede il progetto? La possibilità per queste micro imprese di partecipare negli appalti pubblici attraverso un semplice click, perché tutti i problemi a monte di una presentazione, di una gara d'appalto, lo risolveremo noi attraverso un nostro team di studio appalti. Conto negli appalti è un progetto molto importante di cui va dato ampio merito alla CNA. Questo sostiene Giovanni Legnini, commissario ricostruzione Ischia, che ha partecipato all'evento CNA Pescara assieme ad altri ospiti illustri. Le piccole e le micro imprese, che rappresentano la grandissima platea delle imprese di il nostro paese, hanno poche possibilità di aggiudicarsi gli appalti pubblici, i contratti pubblici. In una fase nella quale il ciclo dell'aggiudicazione dei contratti pubblici è per intero, quasi digitalizzato, è necessario sostenere le piccole e le micro imprese ancora di più. Innanzitutto perché sono quelle che più di altre riescono a far fronte ad impegni realizzativi, attuativi, a volte urgenti, in secondo luogo perché così si favorisce la loro crescita dimensionale.